Un serpentone allegro e colorato, pieno di entusiasmo, che ha invaso le principali strade cittadine per portare un messaggio di pace. E' la marcia della pace che approfondisce il messaggio del Papa verso i giovani, ai quali viene accordata grande fiducia nella convinzione che essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possano offrire una nuova speranza al mondo, un mondo che vive in un crescente senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la società. Oggi è una bellissima giornata, i bambini manifestano per la pace e sono tutti contenti e entusiasmi per questa bellissima esperienza di azione cattolica bimbi. L'iniziativa è stata un'occasione di comunione fondamentale per la vita di tutti, affinché si possa gustare la gioia che scaturisce dal vivere giorno per giorno la carità e la compassione verso il prossimo e dal partecipare attivamente alla costruzione di una società più umana e fraterna. Questa mattina siamo qui con i bambini della CR, dell'azione cattolica, stiamo marciando per la festa della pace, perché vogliamo sempre più pace. Scendi giù, scendi giù, urla pace pure tu!